ciao a tutti ragazzi e ragazze rieccoci sono andati in questo nuovo video oggi siamo tornati con un haul abbastanza capiente di tiger abbiamo preso un po di cose che ci servivano per sistemare poi altre cose poi vedrete insomma che cosa abbiamo preso allora abbiamo preso tre di questi che tra l'altro erano gli ultimi tre e mi servono praticamente da mettere qua nell'alex per mettere meglio la roba diciamo sono degli organizer esatto quindi ragazzi come potrete capire di conseguenza ci sarà un video sul nuovo forno a disposizione del mobietto alex e su come metterà la roba quindi ci sarà un altro video su quello quello modestamente mi era familiare sta di fatto che qualcuno che avevano preso non ci funzionava questo funziona invece e quindi no no che fai tanto l'hai già bruciata di colla glit vabbè disinfettiamo la scrivania che sennò c'è virus e questo lo sbuca che io non l'ho visto questo qua l'ha voluto alessandro praticamente si mette l'acqua dentro e poi in giardino si spruzza certamente non glielo faccio fare in casa quello è poco ma sicuro se non stare a passare lo straccio a parte quello ma pensa se lo spruzzasse giù la gatta che quindi questo è lo spruzzino per alessandro poi ragazzi miracolo ho preso una roba per me che sono non è il twist allora ha preso i calzini antiscivolo che ma devo capire se gli entra più che altro non per fare yoga a me non me ne frega proprio niente dello yoga io l'ho preso per stare comodo anche togliendo magari le ciabatte perché purtroppo essendo pieno terra queste piastre sotto abbiamo terra quindi fra sempre freddo e magari con queste riesco a stare senza ciabatte in teoria vedremo in pratica poi questo ho preso forza 4 mini ce la diamo anche grande sempre per alessandro che si diverte piccolino che se mettete i cerchietti diventano cuoricini vedete che a forma di cuore esatto diventano cuoricini chiaro lo riterrà carino ovvio poi questo che semplicemente ragazzi è il metro un metro a nastro a nastro che ha la custodia quindi quando non si usa ritorna direttamente dentro poi io presumo che questa collezione era la collezione di aprile quella di fiori che non abbiamo mai portato sul canale poi nel video di collezione che ho portato di maggio nel secondo video ho messo anche qualche prodotto con i fiori in modo tale da mixare un po' tutto ecco allora queste erano 50 centesimi l'uno sono due rose ma sono due penne in realtà ragazzi ma io le uso sì perché tra l'altro molti prodotti sono in offerte quindi le paghi la metà e quindi da un lato conviene anche se personalmente non ritengo visto che c'è già 10.000 penne e cos'è quella roba qua cos'è quella roba non l'ho mica vista allora io penso che l'abbia preso semplicemente per antistress sì allora questo qua c'è una cosa ascoltami una cosa ma con tutti gli slime che c'è di là da usare perché devi usare queste robe qua questa cacca qua questo l'ho preso anche perché da ragazzina da piccola avevo il maiale che se schiacciavi usciva ma vabbè però invece che uscire così usciva proprio quella no comunque va bene va bene quindi l'ho preso diciamo anche per ricordo ecco e poi ho preso comunque questo mi pare 50 centesimi ma sì per forza sono ladri ce lo farebbero pagare di più poi questo e questo sempre 50 centesimi sono praticamente quello ce l'hai mega gigante di là in sala penna ah una penna sì a forma di rossetto e poi evidenziatore ah che però io verrò in esposizione cioè comunque possono sempre servire comunque servono ecco ma se li tieni in esposizione che servono? perché sono carini il rossetto è l'esmasso insomma questi che noi uomini e l'aeroporto maschile non faremo mai ma voi donne lo farete li farete queste che mi servivano le ricariche queste possono essere utile ecco questo sono concordo con te per le lavorazioni e poi questo un euro forse mi auguro che ovviamente nell'arco di non troppo tempo quando uscirà questo video quindi intendiamoci che questo video uscirà credo verso i 8-9 giugno o una cosa del genere e vedremo di essere pronti magari a mettere qualcosa su sito riguardo alle creazioni con la colla a caldo in modo tale che se voi se volete acquistare qualcosina potete farlo ovviamente Chiara doveva prendere un attimino la mano prima quindi ritengo che magari in queste settimane possa ultimare e poi essere pronta per vedremo poi per ultimo ho preso questo portachiavi che tra l'altro era l'ultimo cioè di questa categoria diciamo con i glitter guarda non giro la videocamera perché la mia faccia è a forma di bocca ce l'ho lo stesso però c'è il coniglietto ce l'ha appeso alle chiavi di casa io non ho bisogno delle labbra ho già le tue quindi è stato apposta allora ovviamente gli altri due organizer per Chiara che utilizzerà poi lei per il mobiletto Alex appunto poi allora ha preso altre cariche per la colla a caldo in questo caso le iterate colorate e poi ragazzi visto e considerate che sul canale non escono video sul calcio ho deciso di prendere questo calcio balina magari ad utilizzare insieme a Alessandro e portare qualche video così in modo tale che comunque l'argomento rimane aperto spero che vi faccia piacere questa cosa e che vi piaccia questa idea mia di video quindi ragazzi lasciate un pollice in su se vi piace questa mia idea di video e se vi piacciono i prodotti fatecelo sapere sotto nei commenti quale tra questi prodotti preferite di più quindi io aspetto ovviamente interazione da parte vostra riguarda anche questa questa tipologia di video che secondo me è carina poi ditemi voi cosa ne pensate non so chiara modestamente lei non è molto dell'idea nel senso che a lei non piace molto questa cosa non del video dico intendo non che io non porti questi video ma intendo lei di giocare a poi vedremo magari non è che sia una cosa che non puoi fare anche tu devi interagire non soltanto con i fan ma anche con me con i video perché io ma io ci vivo con te a voi ad interagire si ho capito ma anche a livello di video quindi va bene ti posso dire non portare forte mi apporta almeno questo che almeno qua non spari no? vediamo vediamo poi vediamo ragazzi su vediamo e vediamo poi vedremo ma certamente sarà sì perché che deve interagire con me decido io così e così farà e quindi noi ragazzi ci vediamo alla prossima video mi raccomando ciao ciao interagite dicendomi se vi piace questa cosa ciao ciao